Buongiorno, ben trovati appuntamento di sabato 15 luglio 2017 con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa, oggi si ricorda San Bonaventura, noi apriamo come sempre, come ogni mattina con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, partiamo dalle prime quattro edizioni e prime quattro pagine delle edizioni del centro, iniziamo da quella di Pescara dove il titolo principale riguarda la cronaca, problema droga, si drogano nelle vie del centro, i negozianti denunciano le strade dello shopping nel degrado più assoluto e poi che tesoro di tartufo, così l'Abruzzo si scopre più ricco storie, miti e leggende sul prezioso tubero e poi nelle cronache il maltempo che ieri è tornato dopo giorni e giorni di caldo, anche di incendi, è tornato a colpire la nostra regione, soprattutto il pescarese di Chietino, tetti di Velti dal maltempo, soprattutto nella zona ovest della regione del pescarese a confine con la provincia di Chieti, alberi crollati, problemi sull'autostrada, sulla strada Tiburtina e anche nelle zone di Cepagatti e Rosciano, sempre in provincia di Pescara. Poi la cronaca, cuoco nei guai per spaccio di cocaina, Montesilvano immigrati SOS di Maragno a Gentiloni. E poi scontro in aula con la questione Rigopiano e con il deputato parlamentare di Forza Italia Fabrizio Di Stefano che va all'attacco. E poi strada dei parchi, tra poco rivisualizzeremo ovviamente il nostro iPad, dicevo strada dei parchi, si pensa al futuro per quanto riguarda l'importante arteria che collega la costa con la capitale. In attesa di ripristinare il collegamento con il nostro dispositivo elettronico, attendiamo qualche secondo per andare a vedere anche, lo facciamo tra qualche attimo, almeno le prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola. Vediamo se riusciamo a recuperare intanto la pagina del centro. Sì, abbiamo recuperato la pagina del centro che riguarda l'edizione di Pescara, dicevamo le notizie di questa prima pagina, con strada dei parchi attesi fondi del decreto legge lavori su 19 e viadotti. E poi vedete in fondo, a fondo pagina, si parla di calcio con la prima uscita ieri del Pescara a Rivi Sondoli contro una formazione dilettantistica locale. Benali Fatris, 8 a 1 per i Biancazzurri, intanto sul fronte mercato. Ieri sera l'ufficialità, tarda ora, dall'Atalanta arriva Balzani e poi è stata presentata la campagna abbonamenti, obiettivo 5.000 tessere. Andiamo a vedere la prima pagina del centro, edizione di Teramo, scegli l'arma con cui vuoi morire. Così minacciava l'ex moglie arrestato per Stolking, un 43enne di Martinsicuro. E poi Teramo, crolla una tettoia della casa del mutilato. E poi Teramo, il Braga chiede 2 milioni ai comuni. E poi si parla di PD con una notizia però che riguarda l'esponente Teramano del Partito Democratico, Minos, colpito da infarto a Montecitorio. E poi in basso, Roseto, vietati i bagni al Borsacchio. Siamo alla pagina del centro, edizione di Chieti, attentato incendiario nell'autosalone, paglietta a fuoco sette veicoli. Le telecamere filmano un motociclista che aziona l'innesco. E poi nubi fragili nel Chietino, come dicevamo, maltempo, tornato ieri nella nostra regione, cipresso su una macchina, devastate le spiagge. E poi vasto, ospizio Lager, racconti shock delle dipendenti. E poi San Salvo, il prefetto invia i primi 50 migranti nella cittadina in provincia di Chieti. E poi vedete la spiaggia di Ortona in basso, ripari di Giobbe, torna libera, la guardia costiera toglie gli ombreggi. Gestore denunciato. E poi il ciclismo, perché domani si disputerà a Pescara la settantesima edizione del trofeo Matteotti. E tra i favoriti c'è l'abruzzese Ciccone, che dice, voglio vincere il Matteotti. Andiamo a vedere anche la prima pagina del centro, edizione dell'Aquila. Biondi riporta il crocifisso in aula, l'Aquila nel primo consiglio comunale, la mossa a sorpresa del nuovo sindaco. Poi una notizia che riguarda Monsignor Spina, che lascia la diocesi di Sulmona, perché è stato nominato dal Papa, da Papa Francesco, nuovo vescovo della diocesi di Ancona. E poi Avezzano, morte in clinica, sospetti sul compagno. Celano, stupro, assolto dopo dieci anni. Chiederà i danni. E poi in basso, Tiro Mancino, bagno di folla all'Aquila, concerto emozionante a Preturo. Anche in centro, musica live. E poi, da Avezzano, intervista sentimentale all'attore marsicano Corrado Oddi. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero. Scoppia il caso dei migranti. Montesivano, il comune, si appella a Gentiloni dopo gli sgomberi. In via Riosto, San Salvo, in arrivo 50 stranieri all'ex Miraverde. Il sindaco dice, scelta inopportuna. In alto, motociclista piromene, incendia autosalone. Gravissimi danni a Paglieta. E poi vediamo altre notizie. Cucina da incubo nel Vastese, sequestrato villaggio turistico. E poi, in alto, altri titoli che riguardano proprio la prima pagina dell'inserto abruzzo del quotidiano romano. Soprattutto Sulmona, con questo super enalotto di Pasqua, che in pratica non ha visto nessun vincitore. Nel senso che il vincitore, che avrebbe potuto portare a casa un milione di euro, non ha mai ritirato il premio. Andiamo a vedere, per chiudere con le prime pagine, quelle della città di Teramo. Scegli ti l'arma che ti taglio la testa, pescatore di Martinsicuro, arrestato per minacce e stalking alla ex moglie. La prova in un video. E poi ritroviamo anche qui, sul quotidiano La Città, questa notizia dell'esponente del Partito Democratico, Teramano Minosse, colto da infarto, è stato salvato dal collega di partito Ginobili e dal defibrillatore. Dunque è andata fortunatamente bene all'esponente Teramano, che è stato proprio salvato per il pronto intervento, anche l'uso del defibrillatore, oltre che della prontezza del parlamentare collega di partito, tra l'altro, abruzzese Ginobili. Allora, possiamo lasciare le prime pagine dei quotidiani della nostra regione, per andare a vedere insieme, sempre le prime pagine, ma dei giornali nazionali, che troverete oggi in edicola. Possiamo partire dal quotidiano La Repubblica, lo faremo tra qualche istante, per vedere la prima pagina. Si parla di economia, Banca Italia, il PIL va nel 2019, il Paese cancellerà la crisi, via nazionale, ora la crescita viaggia verso l'1,4%. Dunque Banca Italia vede positivo per il nostro Paese nell'immediato futuro. E poi Macron, da Trump al dolore d'inizio, il 14 luglio, non sarà più lo stesso, ieri il neopresidente francese ha ricordato la strage compiuta nella città francese. Andiamo avanti con il Corriere della Sera, tornano i consumi, Banca Italia vede la crescita più forte, anche sul quotidiano milanese si parla delle stime di Banca Italia, che stime con il segno più per il nostro Paese. Poi torna il terrorismo in Egitto, assalto al resort, uccise due turiste tedesche. E poi la stampa di Torino, la carta d'identità tra quattro mesi, la burocrazia che frena l'Italia, le riforme affossate dagli uffici pubblici, anche il divorzio breve. E poi vediamo il fatto quotidiano, Lotti nega, non sono la talpa, ma i PM hanno due testimoni, il ministro indagato in procura nega le soffiate svelate da Marroni e Vannoni. E poi a proposito di politica, di sondaggi, vediamo un attimo se possiamo rinquadrare la prima pagina del fatto quotidiano, perché si parla di un sondaggio delle ultime ore, degli ultimi giorni, che vedrebbe precipitare il Partito Democratico al 24%. Andiamo comunque avanti, vediamo la prima pagina del messaggero, Lasci la toga, chi sceglie la politica, l'intervista al vicepresidente del CSM e del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, che dice restino in magistratura, ma fuori dai tribunali, all'interno del giornale. Questa interessante intervista al vicepresidente del CSM. Poi vedremo qualche stralcio di questa intervista. Il quotidiano libero, il funerale dei partiti, dalle feste dell'unità alle sequie della politica, crollo di pubblico e bilanci in rosso per le storiche chermesse. Poi il calcio, perché non si parla d'altro, l'ultimo colpo di mercato del Milan, che ingaggia lo juventino Bonucci. Gli juventini gli augurano la morte, almeno da come leggiamo in questo titolo, del quotidiano libero. E poi il manifesto, spari sulla spianata, cinque morti, gli attentatori arabo-israeliani a Gerusalemme, città blindata. Dunque si torna a sparare sulla spianata. E poi cenere Italia, perché nel nostro paese e anche in Abruzzo, purtroppo, c'è stata una prima parte di stagione estiva caratterizzata dal problema incendi. Il quotidiano La Verità, espulsioni solo a parole, il piano casa per i clandestini, punto per punto il progetto del Governo per favorire gli immigrati. Il quotidiano Il Tempo di Roma, doppio stipendio a 100 onorevoli, fino a 3.000 euro al mese per le indennità di funzione dei deputati e per i loro viaggi buttiamo 14 milioni l'anno, più di 1.000 euro ogni 30 giorni per l'aeroporto. E poi il quotidiano Il Mattino di Napoli, Vesuvio e il disastro ambientale, il paradosso delle tre procure, Napoli, Nola e Torre Annunziata, che indagano ognuna per sé. E poi vedete, anche sul mattino si parla dell'emergenza migranti, rivolta anti-migranti 7.000 in due giorni, Civitavecchia contro l'hotspot al porto, su cui starebbe ragionando il Governo. E poi minacce a Bonucci, altro che sfottò a Higuain. Dunque non l'hanno presa bene i tifosi bianconeri, per quanto concerne il passaggio di Bonucci, difensore ormai ex Juve della Nazionale, al Milan. Siamo ad avvenire, il PIL sorprende, il debito invece no. L'Italia cresce dell'1,4%, ma resta la zavorra, come leggiamo qui da avvenire, del debito pubblico. Siamo al secolo XIX, Marrosso attacco mortale alle turiste, con un assalitore che uccide due donne, ne ferisce quattro e poi inizia, si ferma, ad un anno dalla strage. Macron lotta al terrore ovunque, dice il Presidente francese. Questo era l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo oggi esaminato, per quanto concerne l'edicola nazionale. Possiamo ripartire dai nostri quotidiani. Lo faremo tra qualche istante dal messaggero, per andare a vedere innanzitutto qualche stralcio. Abbiamo visto nella prima pagina del quotidiano romano qualche stralcio dell'intervista rilasciata dal Vice Presidente del CSM, Giovanni Legnini, proprio al quotidiano romano. Si parla di toghe, di toghe in politica, ma non solo. Allora andiamo a vedere cosa ha detto Legnini al messaggero. Le toghe che fanno politica restino fuori dai tribunali. Il Vice Presidente del CSM, tra l'altro, come tutti saprete, abruzzese dice che serve una norma per il rientro in servizio con incarichi diversi e una legge prioritaria per rafforzare la fiducia dei cittadini nella magistratura. Ancora il Vice Presidente del CSM, il Parlamento, dice che ha l'opportunità storica di chiudere la discussione con un'opzione netta e costituzionale. E poi Di Matteo, ministro, pensavo fosse interessato al suo incarico alla Procura Nazionale Antimafia. Vedete sotto l'articolo proprio a tal proposito di Matteo e le porte girevoli che danneggiano le istituzioni. Il magistrato è candidato con i 5 Stelle e conduce la delicata inchiesta su Stato-mafia. E poi la vicenda Consip, prima di passare alle vicende di casa nostra, l'otto interrogato dai PM, il ministro dello Sport, dice che non informai nessuno. Allora possiamo arrivare e passare rapidamente alle prime pagine dell'inserto Abruzzo del Messaggero per andare a vedere proprio le notizie di casa nostra. Vediamo la seconda pagina di cronaca regionale. Regione a due velocità nel porta a porta. Male, L'Aquila e Pescara, differenziata in crescita nella regione. Bene, Chieti e Teramo. Il sottosegretario Mazzocca dice, ribadiamo di no al Camino. E poi, ricostruzione, ecco i soldi per le scuole. Dunque, notizia importante che è stata data dal governatore della regione, Luciano D'Alfonso. Siamo alle cronache provinciali. Partiamo da Pescara, torniamo a parlare di maltempo. Abbiamo visto dalle prime pagine dei nostri giornali, tromba d'aria, danni e mare vietato. L'eccezionale ondata di maltempo si è abbattuta nel Pescarese, campagne devastate dalla Grandina, Cepagatti e Rosciano, tombini saltati e strade allagate in città, dal centro fino all'ospedale ai colli. Alessandrini, sindaco di Pescaraordina, niente bagni. E dunque, problemi per il maltempo, che è durato poche ore, ma ha creato sicuramente problemi. E poi, sanità, sentenza del Tar, respinto il ricorso del comune di popoli sui tagli all'ospedale. E poi la cronaca, lotta alla droga, gli incassi della cocaina erano nascosti nel peluche, arrestati, cuoco e complice, di nuovo in manette, lo chef venezuelano che riforniva i pusher della Movida, carabinieri a caccia di un terzo uomo. Ieri c'è stata la conferenza stampa presso il comando provinciale dell'arma a Pescara. Andiamo a vedere il servizio. Maggiore Scarponi, droga destinata alla Pescara, bene alla Movida dell'estate pescarese. Avete tratto in arresto dei cittadini sudamericani. Sono state eseguite delle misure cautelari su Pescara, destinatari dei cittadini sudamericani, i quali sono stati individuati quali detentori e spacciatori di stupefacenti, ingenti quantitativi di cocaina. Parliamo di droga. Indagine è partita nel novembre scorso, questa mattina nel corso di nuove perquisizioni. Avete recuperato anche dei contanti. L'attività è iniziata con un arresto in flagranza, con un grosso quantitativo, oltre mezzo chilo di stupefacente, in gran parte cocaina, oltre ad hashish e marijuana. Dato il grosso quantitativo di droga e dato le modalità di detenzione in ovuli, si è deciso di approfondire e questa mattina si è giunti alla conclusione dell'attività, che ha permesso di individuare i complici dell'arrestato. Una delle persone destinatarie dell'ordinanza di custodia caudolare, però è al momento irreperibile. Sì, uno dei destinatari, un altro cittadino sudamericano, è irreperibile. Nell'attività condotta questa mattina, all'interno dell'abitazione di uno degli arrestati, sono stati trovati 12.500 euro, confezionati in bustine di plastica, e all'interno di un peluche nascosti. Noi proprio su questo servizio passiamo alle pagine del centro, per parlare del far west in centro, si drogano in mezzo alla strada, i commercianti denunciano le vie dello shopping, sono nel dregadolo più assoluto, siamo alle pagine del centro e poi troviamo proprio sul centro operazione dei carabinieri per la Movida, presi due spacciatori, abbiamo appena adesso visto il servizio. Poi maltempo, tetti divelti e colture distrutte, tra i centri più colpiti, Cepagatti e Rosciano, strade bloccate dagli alberi caduti, fulmine brucia un quadro elettrico. A Pescara, dunque problemi come abbiamo visto per il maltempo nella nostra regione, ma soprattutto nel Pescarese, in provincia di Chieti. Ancora cronaca di Pescara dal centro, sangue, scorte insufficienti, l'ospedale cerca donatori, nell'ultimo mese, aumento delle richieste del pronto soccorso. E poi, ancora Pescara, triplo cento e lode al liceo classico, tra filosofia e volle, i sogni e le aspirazioni di Alice Sinni, Francesco Laureti ed Elena Pierannunzi. Ecco gli allievi più brillanti della scuola. E a proposito di maltempo, vedete questo articolo di spalla, sempre sulla pagina del centro, dopo la pioggia, scatta il divieto di balneazione in tre punti della costa di Pescara. E poi, ancora, siamo a Francavilla, strada senza marciapiedi, SOS Pedonia, Fonte Chiaro. Francavilla e residenti chiedono la realizzazione di servizi per rendere la strada più sicura. In basso, a Pianella, stasera il largo del teatro, conferenza su Nicola Rossi, mentre spoltò l'ensemble, parte la gara, il Comune seleziona con avviso pubblico l'organizzatore della rassegna tradizionale che si tiene nel mese di agosto. E poi siamo alla pagina di Montesilvano. Dal centro, immigrazione, appello al governo, SOS del sindaco, al premier Gentiloni, al ministro degli interni Minniti. Il sindaco, Francesco Maragno, chiede di rendere efficaci le espulsioni e di facilitare i lavori socialmente utili. di Aliano, l'esponente di centro-destra, spesso critico con la giunta comunale, dice che bastava scrivere al prefetto. E ancora Montesilvano, lavoro in due mesi, 135 utenti si sono rivolti al nuovo ufficio, allo sportello integrato, mentre a città Sant'Angelo, in via San Marino, strada a rischio, le minoranze contestano le opere di riqualificazione, durate otto anni. E poi, sapori e musica dall'Etna al Gran Sasso, si apre oggi l'attesa rassegna angolana, che celebra le tradizioni e l'amicizia tra siciliani ed abruzzesi. Ieri mattina, la presentazione di questa importante rassegna enogastronomica, ma anche turistica, che si tiene ogni anno, da 14 anni, a città Sant'Angelo. Possiamo andare a vedere il servizio. E' forse l'appuntamento principe dell'estate di città Sant'Angelo. Parliamo ovviamente della manifestazione dall'Etna al Gran Sasso, 14esima edizione. Sindaco Florindi, un appuntamento imperdibile a questo punto. La più antica, ed è quest'anno alla 14esima edizione, con tantissime novità. In maniera particolare, nei fini di settimana, vi ricordo le magiche notte dei Mazzmarill, nella parte vecchia del casale, ci sono novità sotto il punto di vista enogastronomico, novità sotto il punto di vista delle attrazioni, anche con un angolo riservato alla pizzica salentina. E in più, la novità più importante è che quest'anno abbiamo il nuovo sindaco di Nicolosi, il dottor Angelo Pulvirenti, amico già di vecchia data, che fa il suo battesimo a Città Sant'Angelo. Un binomio vincente Città Sant'Angelo-Nicolosi nel segno delle tradizioni e dell'enogastronomia. Sì, un binomio vincente che è nato ormai da tanti anni sotto la protezione altissima di Sant'Antonio di Padova e anche dall'unione di queste due meravigliose regioni come la Sicilia e l'Abruzzo. Sindaco di Nicolosi, all'esordio per quanto riguarda questa manifestazione, due città, Città Sant'Angelo e Nicolosi, lontane geograficamente ma più che mai vicine oggi. Certo, vicine nello spirito del gemellaggio stesso. Io già sono venuto in verità qui a Città Sant'Angelo nelle vesti di consigliere. Ho apprezzato l'importanza di questa manifestazione e soprattutto le repercussioni che ha sul territorio. Quindi da primo cittadino ora mi vedo impegnato sicuramente nel continuare l'importanza di questa manifestazione per le comunità nicolosite e dei città Sant'Angelo che sicuramente beneficiano di queste stesse manifestazioni. Siamo ancora sulle pagine del centro. Ci spostiamo in Val Pescara. Sanità, risonanza dimenticata da quattro anni. Popoli blitz del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e Pettinari in ospedale. Lavori finiti ma nessuno accende, dice il macchinario. Denuncerò il caso alla Corte dei Conti. E poi il TAR, vedete l'articolo in basso, boccia il ricorso del Comune contro il declassamento. In basso, anche all'Istituto Marconi, siamo in questo caso però a Penne, dunque nell'area Vestina, i fondi del Governo, l'Istituto di Penne, lo Spaventa di Città Sant'Angelo beneficeranno degli aiuti per i danni del sisma. Andiamo avanti, siamo alla pagina dell'Aquila, di L'Aquila Provincia, dalle pagine del centro. Avezzano, inchiesta per omicidio, morte misteriosa nella clinica, sospetti sul compagno in fugo, indagini sulla fine del 27enne Mirasole, la sorella, aiutatemi ad evitare altre tragedie. L'avvocato di famiglia dice ci sono troppe anomalie. Struttura già al centro di polemiche. E poi siamo all'Aquila, si è tenuto il primo consiglio comunale con il neosindaco Biondi che riporta il crocifisso in consiglio. L'Aquila mossa a sorpresa del sindaco che ripristina l'immagine sacra in aula nella seduta d'esordio. Vedremo più tardi il servizio sul primo consiglio comunale dell'Aquila. Vediamo invece le altre notizie. Accusato di stupro, assolto dopo dieci anni, siamo a Celano nella Marsica, incubo finito per Della Rocca, la mia vita stravolta dal carcere, chiederà un risarcimento. Siamo a Teramo, stalking, arresto a Martinsicuro, scegli l'arma con cui vuoi morire. Ai domiciliari, un uomo di 43 anni che minacciava e perseguitava la ex moglie per tornare in possesso della casa e poi nei guai anche un trentenne Teramano botte alla madre per la droga, è stato arrestato. E poi siamo a Roseto, bagni vietati sulla spiaggia del Borsacchio, ordinanza del sindaco perché manca il servizio di salvataggio. L'amministrazione comunale dice non abbiamo fondi. Andiamo avanti, siamo arrivati all'inserto dell'Aquilone e poi dello sport. Dunque possiamo tra qualche istante passare alle pagine del messaggero per vedere quali sono, anche in questo caso, sull'inserto Abruzzo, le cronache dalle province. Avevamo visto la prima pagina qualche minuto fa che riguardava la cronaca di Pescara, l'operazione antidroga dei carabinieri. Vediamo anche la pagina che riguarda l'area metropolitana. Migranti, siamo a Montesilvano. Il sindaco Maragno scrive al Governo, lettera al Premier Gentiloni e al Ministro dell'Interno Minniti, invitati a Montesilvano per intervenire a tutela della comunità. Il sindaco ha espresso timori di una situazione fuori controllo, molto è stato vanificato, dice, dalla scarsa chiarezza di certe norme. E a Pescara, all'Aurum, gli extracomunitari fanno gli attori. E poi anche sul messaggero ritroviamo l'articolo che riguarda la quattordicesima edizione dell'importante e sagra manifestazione che si tiene a Città Sant'Angelo, la quattordicesima edizione dall'Etna al Gran Sasso. Abbiamo appena visto il servizio con le interviste ai sindaci di Città Sant'Angelo e di Nicolosi, Florindi e Pulvirenti. Possiamo dunque fermarci almeno per il momento qualche attimo per andare a vedere anche le previsioni del tempo, per sapere quali saranno appunto le previsioni per questo weekend dopo il maltempo della giornata di ieri. Poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Seconda parte di Mattino 6, eravamo le pagine del messaggero, siamo alla cronaca dell'Aquila, cronaca giudisiaria, perché vediamo dal titolo a tutta pagina che ha mancati i canoni al progetto case, assolti Cialente, due ex assessori. E poi la Pezzopane, i commenti sull'assoluzione dell'ex sindaco, i due ex assessori, si tratta di Pelini e Moroni. La Pezzopane dice mai avuto dubbi. E poi l'arte contemporanea negli enevi abruzzesi, questo evento che si tiene all'Aquila e che è stato presentato ieri. E poi in basso, ditta agevolata attorno in parte, sei persone nei guai. E poi Madonna del Carmine, domani ci sarà la giornata clou di questa manifestazione, di questo evento. E poi Biondi e Tinari subito protagonisti nella prima seduta del nuovo Consiglio Comunale, esordio del sindaco Biondi, con anche qualche novità. Possiamo andare a vedere il servizio realizzato dalla nostra redazione Aquilana. Primo Consiglio Comunale dell'Era Biondi oggi a Villa Gioia. Il giuramento del sindaco e l'emozione come al primo giorno di scuola. In realtà, ha ricordato il nuovo sindaco, il nostro lavoro è iniziato all'indomani delle elezioni. Questa città ha bisogno di tante risposte e questa fascia che io oggi mi inorò di indossare è una fascia portata da tutti. Una grande emozione, un grande onore, ma soprattutto una grande responsabilità. fuori da queste alue c'è una città viva, pulsante, che soffre, che spera e che si attende delle risposte anche in tempi relativamente brevi. La situazione naturalmente è complessa, ci sono tante difficoltà, noi non abbiamo la bacchetta magica, dobbiamo ancora prendere possesso di una macchina amministrativa che va riorganizzata, però lo stiamo facendo dal primo giorno, lo faremo con grande passione, con grande impegno e con grande onestà. Si rivede intanto il crucifisso in aula, anche il consigliere straniero nel suo intervento ha sottolineato l'importanza della condivisione. Lo ha deciso la città, in realtà il crucifisso è un simbolo identitario importante, è un simbolo che non deve dividere ma che deve unire e se avete ascoltato il discorso attentamente del consigliere straniero avrete anche sentito che ha detto che la convivenza si fa attraverso la condivisione delle regole. Roberto Tinari intanto è il nuovo presidente del consiglio comunale con 21 voti a favore, 11 scade bianche e una nulla con i vicersi la lancia e Angelo Mancini. Ma sì, l'emozione è sempre quando si parla della mia città c'è sempre questa emozione, l'ho avuta io l'ho avuta anche il sindaco e credo che l'abbiano avuti anche tutti i consiglieri comunali compreso gli assessori quindi è un ruolo di grande responsabilità che spero di portare avanti nel migliore dei modi. Lei ha assicurato che ci sarà sempre una dialettica positiva da entrambe le parti costruttiva soprattutto per la città? Ma certo, questo è l'elemento essenziale dobbiamo essere uniti perché come ho detto già in aula i nemici di questa città non sono sicuramente in quest'aula sono fuori. Andiamo avanti nessuna violenza in quella casa famiglia siamo ad Avezzano la pagina di Avezzano sul Mona del Messaggero l'avvocato Cascere presenta ricorso al Tribunale della Libertà le testimonianze dice sono scarse hanno parlato solo i ragazzi non abbiamo commesso abusi su minori qualcuno era più vivace e a volte eravamo costretti ad usare toni forti questo è l'articolo sulla vicenda della casa famiglia di Avezzano e poi il fucino siccità si allunga lo stop all'irrigazione dei terreni a Tagliacozzo di sequestrati i beni della Contea e poi ritroviamo anche sul Messaggero la notizia che avevamo visto sul centro perché il Vescovo Angelo Spina lascia la diocesi di Sulmona Valva per approdare a quella di Ancona andrà a sostituire il Cardinale Menichelli porterò con me sempre le ferite del sisma dunque una vera e propria promozione per il Vescovo Spina che dunque andrà a sostituire nella sede Cardinalizia di Ancona il Cardinale Menichelli e poi Avezzano furto di auto e danni due arresti della Polizia bisegna annullate le ultime comunali decisione della Prefettura dell'Aquila errato conteggio dei voti e poi ritroviamo l'articolo che avevamo visto in prima pagina milionario mancato nessuno riscuote dunque questi soldi che per il momento sono diciamo vacanti questa vincita è vacante perché il vincitore non si è presentato siamo alla pagina di Chieti carichieti targata Ubi rischia di perdere la direzione generale le trattative per la riorganizzazione vertice declassato si teme per alcuni servizi e centinaia di posti di lavoro e poi Conti la provincia sempre più in rosso vende panda e furgone per far cassa e poi anche sulla pagina di Chieti ritroviamo le notizie che riguardano il maltempo schiantato dalla bufera albero cade su un'auto salva per miracolo la donna che era alla guida e poi piromene in moto incendia l'autosalone ci spostiamo nell'area frentana il centauro con il casco in testa getta carburante nel piazzale in fiamme otto autovetture della Lino Motors di Scardapane il coraggio dell'imprenditore ha evitato ulteriori danni azienda in crescita non si esclude il gesto di un rivale poi parla il titolare che dice sono sconvolto non ho nemici vasto ospizio lager la testimone ho visto ogni nefandezza e poi a San Salvo arrivano 50 migranti all'ex Miraverde il prefetto Corona conferma l'arrivo del gruppo il sindaco di Siana Magnacca infuriata siamo alle pagine di Teramo e della provincia sempre dal messaggero in carichi d'oro alla Ruzzoreti sul tavolo della commissione il presidente Forlini snocciola i dati c'è anche un'agenzia investigativa e poi casa del mutilato crolla danni per antico affresco e poi la cronaca picchia la mamma per i soldi della droga arrestato poi Brucchi ritardi applicheremo le penali si parla dei lavori su Corso San Giorgio e poi il sindaco Minos colpito da infarto a Montecitorio è stato come abbiamo visto salvato per il pronto intervento dei colleghi tra cui Ginobili e anche per l'uso del defibrillatore siamo la pagina di Giulianova sempre del messaggero Portosi a cartone non passa Chiarolla l'assemblea non riesce ad eleggere il secondo consigliere a causa delle divisioni all'interno del centrodestra che doveva esprimerlo e poi nell'ente si è posto il problema della presenza nel consiglio di una presenza di genere doveva essere infatti nominata una donna e poi Giulianova raccolta differenziata il comune primo e sempre nella città giuliese per la cronaca arrestato l'americano dopo risse e denunce a Martinsicuro scegli l'arma con cui devo ucciderti preso in manette un 43enne che aveva spedito un videomessaggio alla ex moglie a Martinsicuro Emma Zarroli nuovo presidente del consiglio comunale a Pineto lo sport grande protagonista delle serate estive siamo arrivati alle pagine dello sport dobbiamo andare però a vedere insieme invece le pagine del quotidiano la città di Teramo poi nell'ultima parte parleremo di sport perché ci sono importanti novità che riguardano il calcio soprattutto il Pescara ma anche il Teramo ieri è iniziato il ritiro della formazione bianco-rossa ad Alfedena Teramo che ha messo a segno tra l'altro proprio nelle ultime ore nelle ultimissime ore dunque ieri sera due importanti colpi di mercato ma andremo a vedere tutto questo tra qualche minuto e siamo alle pagine che riguardano il quotidiano la città tromba d'aria e grandine nel Pescarese tetti scoperchiati coltivazioni danneggiate allagamenti e alberi sulla carreggiata dell'autostrada A25 si parla ovviamente del maltempo che ha colpito nel pomeriggio di ieri soprattutto la provincia di Pescara e poi l'Aquile sindaco Biondi riporta il crocifisso in consiglio comunale abbiamo appena visto il servizio e poi in basso controlli del NAS sulla costa chiusa la cucina di un villaggio turistico proseguiamo ricostruzione a rilento imprese e tecnici suonano la sveglia a Montori Alvomano nell'ufficio territoriale fuori dal cratere giacciono ancora più di 200 pratiche del terremoto del 2009 e poi questa storia del post-sisma Bianchina 86 anni non vuole saperne di lasciare la sua amata Fano Adriano e poi in basso costringeva la madre ad accompagnarlo a comprare la droga arrestato un trentenne Campana organizza i giochi senza macerie il consigliere Terramano siamo a Teramo appunto lancia la sfida tra i 18 comuni dell'entroterra devastati dal sisma e dalla neve per il momento è stato scelto il comune di Cortino chi vincerà ospiterà l'edizione del prossimo anno e poi il sociale perché Unicredit dona 15.000 euro alla croce bianca di Teramo siamo ancora alle pagine che riguardano Teramo alla politica articolo 1 non sarà alleato del PD di Mariani per Alessiani ormai i dem sono di centrodestra e si accorderanno con Gatti e Tancredi per governare Teramo e poi a Roma Minos è colto da infarto a Montecitorio soccorso da Ginobile e salvato dall'uso del defibrillatore crolla la tettoia laterale alla casa del mutilato siamo ancora a Teramo la struttura in legno e Coppi che copre la Madonna di Giacomo da Campli ha ceduto alle 4.30 del mattino il corso trasformato in bacino di canottaggio operai costretti a trivellare la nuova cisterna per far defluire l'acquazzone Tombini ostruiti ovunque dunque problemi per il maltempo anche a Teramo e poi in basso chi pagherà il trattamento antimacchie sulle pietre del corso a due giorni di distanza fanno ancora discutere i lirievi sui lavori sollevati dal progettista Giustino Vallese Teramani all'estero sulle orme degli abruzzesi che scappano ad Oradea in Romania tra i concittadini emigrati alla ricerca di una vita migliore a prezzi molto più bassi dunque tanti abruzzesi vanno all'estero dove a vivere all'estero dove evidentemente la vita costa meno andiamo avanti siamo intanto alle pagine della provincia sempre del quotidiano la città abbiamo lavorato rispettando le regole la società Gli Angeli risponde alla Federcovit sulla gestione dei servizi negli obitori Teramani e poi a Bellante Mattia di Marcantonio New York per incontrare il boss delle torte Valle Castellana vedete in basso 4 ventenni disperse salvate dai vigili del fuoco in difficoltà le ragazze a causa dell'improvviso temporale siamo alla pagina della Val Vibrata trova il borsello rubato e lo restituisce senza chiedere ricompense questo bel gesto da parte di un dipendente della Poliservice e poi a Martinsicuro scegli l'arma che ti taglio la testa marittimo di 43 anni in manette per lo stalking all'ex moglie a Nereto via i lavori per l'adeguamento sismico del Peano e poi la differenziata sale ma la tari non cala Giulianova Regina d'Abruzzo con il 70% tra i comuni sopra i 20.000 abitanti e poi sempre Giulianova chiusura di intermintenza per il ponte sul Salinello e poi l'altra faccia della medaglia per quanto riguarda in questo caso però la problematica dei rifiuti siamo sempre a Giulianova problemi con la gestione degli sfalci dopo la chiusura dell'impianto CIRSU e poi rinviato al 22 luglio il trofeo di nuoto città di Giulianova organizzato dalla WISP ovviamente a causa del maltempo di queste ultime ore dunque appuntamento rinviato rimandato alla prossima settimana al prossimo weekend turismo e ambiente siamo alle pagine di Roseto Pineto Atri e Silvi il divieto al Borsacchio poteva essere evitato gli ambientalisti criticano la scelta di vietare la balneazione per mancanza di bagnini ci eravamo proposti noi dicono e poi a Roseto l'acqua del Gran Sasso sgorga direttamente in Piazza della Libertà e poi ambiente esposto sulla ciclabile asfaltata a Torrecerrano nel mirino dell'associazione anche il taglio della vegetazione a Fosso Concio andiamo avanti ancora la pagina di Roseto e del litorale Terramano campagna elettorale boomerang per Digironamo posizione all'attacco per le promesse non rispettate sulla riduzione Tari e la filiera regionale col PD dunque polemiche politiche a Roseto e sempre a Roseto siamo tutti in regola e non facciamo concorrenza a nessuno i camper club contro l'amministrazione dicono non possono impedire ai privati cittadini di coltivare una passione lecita andiamo avanti siamo ad Atri sulla cultura il sindaco ha fatto solo chiacchiere la città esclusa da tutte le reti di finanziamento regionale per lo sviluppo dei borghi e per il rilancio del turismo e poi eventi a Roseto torna emozioni in musica gran finale il 6 agosto con la premiata forneria Marconi in basso Silvi dice no alla sabbia dragata al porto di Ortona i sedimenti saranno depositati nel tratto di mare di fronte alla città adriatica pagina della cultura un progetto per il vino cotto teramano dalla tavola rotonda al vinitali alla valorizzazione della tradizione vinicola per ottenere la denominazione doc e poi officina l'aquila lo stato dell'arte sulla ricostruzione lavori edili restauro riqualificazione urbana e sicurezza antisismica così cambia un capoluogo dopo il terremoto atri a tavola grande show del gusto cucina prodotti tipici e cultura riempiono il centro ducale a metà agosto ci sarà il bis siamo la pagina dello sport della città stasera parte il ritiro il teramo cala il tris perché ovviamente la squadra lavorerà ad alfedena e come detto bisogna dire che sono arrivati i colpi di mercato che i tifosi aspettavano in casa bianco rossa ne parlavamo prima perché sono ufficiali gli ingaggi dell'attaccante trentenne Giacomo Tulli dell'ex bomber del Melfi Foggia e del giovane proveniente dal Pescara Pietrantonio dunque importanti colpi di mercato per il teramo lasciamo la pagina dello sport del quotidiano la città torniamo sul quotidiano il centro per parlare ripartire dal Pescara e dunque dalla serie B l'amichevole Pescara prima goleada ben alì si mette in vetrina 8 a 1 dei biancazzurri sul rivisondoli e poi abbonamenti al via obiettivo 5.000 tessere prezzi poco più alti rispetto al 2015 tra poco vedremo due servizi che riguardano il Pescara intanto parliamo di serie C di Lega Pro perché il teramo abbiamo visto scatenato sul mercato ingaggiati Foggia e Tulli e poi la serie D Rabeni firma per l'Avezzano Capone finisce i nero stellati caccio di eccellenza il Real Giulianova prende Flavioni Gibs passa all'Alba Adriatica e poi il ciclismo perché quella di domani sarà la grande giornata della settantesima edizione del Matteotti parla l'abruzzese Ciccone voglio vincere il Matteotti il 22enne corridore Tiatino della Bardiani e tra i favoriti ci proverò ma sarà molto dura e poi il basket Sharks ecco infante Rosetto sempre nella mia testa basket di serie A2 il pivot si presenta e domani verrà svelata la nuova campagna abbonamenti della formazione rosetana che rappresenterà l'Abruzzo nella prossima stagione del campionato di serie A2 maschile di pallacanestro e poi altre notizie volley l'impavida conferma lo schiacciatore peda e poi rugby a 13 l'Aquila neroverde in campo per agguantare lo scudetto alle 16.30 contro gli Ammers Umbria vediamo notizie di altri sport sulla parte bassa della pagina atletica leggera poker Abruzzo alle finali nazionali il 23-24 settembre ben quattro società si giocheranno il titolo golf amiglianico i titoli italiani pulcini e poi powerlifting prova di forza di calista medaglia d'argento ad Helsinghi lasciamo le pagine dello sport del centro per andare a vedere quelle del messaggero benali offerto alla Samp questa è la notizia di mercato che riguarda il Pescara ben avviata la trattativa con il club Brucerchiato se va in porto possono arrivare Insigne, Junior o Gatto ma il Pescara chiede anche contanti e poi Biraghi, Bemusciai e Zampano in cerca di acquirenti Campagnaro sempre in stand by non c'è ancora la firma e poi l'amichevole 8 gol nella prima uscita a Rivisondoli ieri per i Biancazzurri gara giocata al comunale di Rivisondoli eravamo presenti nel centro dell'altro sangro con le nostre telecamere possiamo andare a vedere il servizio su questa vittoria per 8 a 1 dei Biancazzurri con la formazione dilettantistica locale test poco probante ma comunque utile per iniziare a prendere confidenza con il campo di Rivisondoli dove i Biancazzurri hanno superato una rappresentativa locale con il risultato di 8 a 1 nella prima uscita ufficiale della nuova stagione Zdenek Zeman un po' a sorpresa ha inserito in distinta tutti i calciatori che facevano parte del Pescara della passata stagione ad eccezione di Alessandro Polidori che però in odore di cessione del secondo portiere Vittorio Antonino per il resto spazio e vari Fiorillo Vitturini Crescenzi Coda Fornasier Cullibali Brugman Benali Pettinari Mitriza Viraghi Zampano Bruno Stendardo Bovo Emilicevic per i nuovi allenamento in un campo adiacente quello in cui si è giocata l'amichevole per la cronaca Fiorillo e compagni si sono aggiudicati il match con il risultato di 8 a 1 grazie alle reti di Benali assegno con una tripletta a Pettinari con una doppietta e grazie anche alle reti di Polidori Brugman e Cullibali la prima gara della stagione si è giocata di fronte a 300 spettatori fra cui una cinquantina di ultra arrivati a rivisondoli con bandiere fumogeni al seguito dagli spalti qualche coro contro il presidente Daniele Sebastiani esposto in tribuna anche uno stricione che recitava nulla è cambiato per chi ci ha disonorato la prossima uscita dei Biancazzurri è in programma martedì 18 luglio alle 17 sempre al campo comunale di rivisondoli contro la Virtus Teramo tre volti nuovi della prima uscita del Pescara contro il rivisondoli Alessandro Polidori una partita comunque per prendere confidenza con il campo come è andata? sì stiamo lavorando molto perciò queste partite servono per per conoscerci tutti tutti insieme per mettere dentro qualcosa sei di passaggio qui a rivisondoli oppure conti speri di restare ovviamente per tutta la stagione? vediamo vediamo sono del Pescara perciò è una bella piazza spero di restare vediamo come va come vanno va questo ritiro Radio Mercato però parla di interessamento di Provercelli Teramo diverse squadre tu cosa sai cosa ti ha detto il procuratore? ma no io penso adesso a prepararmi e fare la preparazione al meglio e poi si vedrà il patto con Zeman Sandro sto allenatore comunque carismatico sì è un grande allenatore si lavora tanto con lui perciò dobbiamo stare a testa bassa e lavorare per preparare la stagione al meglio è davvero dura la preparazione di Zeman è una buona preparazione forse è diversa da tanti altri però si fa queste le immagini della partita giocata ieri dalla Pescara a Rivisondo le 8 a 1 con la formazione locale abbiamo anche ascoltato uno dei volti nuovi della Pescara Alessandro Polidori che però potrebbe essere ceduto richieste il giocatore 25enne Biancazzurro sia dalla serie B che dalla Lega Pro Pescara che tornerà in campo lo ricordiamo il 18 di luglio martedì prossimo sempre alle 17 sempre a Rivisondoli contro la Virtus Teramo e noi restiamo a parlare del Pescara perché come possiamo vedere da quest'altro articolo sul messaggero è stata presentata sempre ieri al convitto d'annunzio la nuova campagna abbonamenti della formazione adriatica prezzi davvero convenienti per chi deciderà di abbonarsi previste riduzioni e agevolazioni per i vecchi abbonati ovviamente prezzi ridotti per donne under 18 e disabili dunque una campagna abbonamenti in cui il Pescara spera di poter riallacciare il feeling con la tifoseria noi a tal proposito eravamo presenti anche ieri con le nostre telecamere al convitto d'annunzio di via Arrone a Pescara per la presentazione della nuova campagna abbonamenti andiamo ad ascoltare a vedere il prossimo servizio Francesco Troiano vogliamo parlare un attimo nel dettaglio della nuova campagna abbonamenti del Pescara diciamo subito che conviene davvero abbonarsi per la prossima stagione prezzi bassi ci sarà la possibilità di seguire tutte le 21 gare casalinghe del Pescara allo stadio triatico sì fondamentalmente abbiamo mantenuto gli stessi prezzi di due anni fa ritoccati leggermente poiché abbiamo appunto ci siamo anche allineati con i prezzi dei biglietti rispetto alle altre squadre e a quello che ormai gli stati italiani offrono per il resto appunto la convenienza resta comunque altissima perché i prezzi sono comunque tra i più bassi del campionato e come ho spiegato prima appunto anche la Curva Sud è tornata disponibile per 21 eventi quindi abbiamo tutto lo stadio a disposizione per i nostri tifosi si partirà il 18 di luglio e fino al 30 luglio ci sarà la prelazione per i vecchi abbonati sì partiamo il 18 a mezzogiorno e fino al 30 luglio sera abbiamo la prelazione dedicata agli abbonati su quale appunto possono confermare il proprio posto mentre la scontistica per loro la manterremo comunque fino al termine della campagna abbonamenti poi ci saranno le consuete agevolazioni i consueti abbonamenti biglietti ridotti per alcune categorie di tifosi sì 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 poi aggiungo che partirà il 31 mattina la vendita libera e le riduzioni le abbiamo confermate come tutti gli anni donne under 18 per 60 e diversamente abili l'altra novità è che da quest'anno abbonamenti e biglietti della Pescara Calcio verranno venduti verrà gestita la vendita dalla Ticket One sì diciamo precisamente che abbiamo ampliato la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento a tutta la rete Italia di Ticket One quindi circa mille punti vendita in più abbiamo aperto nella sua completa totalità la campagna abbonamenti sul web sul sito di Ticket One punto it quindi non sarà più possibile soltanto rinnovare l'abbonamento ma anche sottoscrivo l'ex nome in più per i biglietti abbiamo la novità del passbook allo stadio dove sarà possibile entrare mostrando semplicemente il biglietto dal proprio telefonino o in home ticketing stampando a casa il biglietto dunque questa l'ampia pagina che abbiamo dedicato questa mattina al Pescara con il servizio relativo all'amichevole di ieri a Rivisondoli con la presentazione col servizio relativo invece alla presentazione della nuova campagna abbonamenti e poi siamo al campionato di Lega Pro al Teramo doppio colpo arrivano Foggia e Tulli oggi la partenza per il ritiro di Alfedena sette gli epurati tra i nuovi ci sarà anche Pietrantonio e siamo alla seconda pagina di Sport al Messaggero in alto a parte alta della pagina si parla di basket di Paolo Antonio prepara un roseto giovane low cost e poi il basket di Serie B le abruzzesi riunite nello stesso girone l'amatori prende Bedetti e Giulianova il pivoto Masello e poi a centro pagina di spalla il volley di Serie A2 Nunzio Lanci e parla della Sieco di un girone impegnativo per la prossima stagione poi il calcio di eccellenza Giulianova arriva il difensore Flavioni il terzino ha indossato le maglie di Ternana e San Benedettese l'alba driatica si rinforza con Gibbs ed il ritorno di Emili poi Pineto pronta ad ospitare la notte bianca dello sport in basso il ciclismo la mostra fotografica apre il weekend del Matteotti e poi il basket con Titti Stama sulla panchina del nuovo basket aquilano dunque sarà l'ex giocatore anche dell'amatori Pescara a guidare la formazione aquilana nella prossima stagione noi siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 Mattino 6 che tornerà lunedì puntuale come ogni mattina alle 8 invece io vi rinnovo come sempre l'appuntamento il prossimo appuntamento con la cronaca della nostra rete con la prima edizione del TG6 alle 14 grazie per averci seguito grazie a Maurizio Dagui in regia dalla nostra redazione l'augurio di un buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti